Non ha fatto i conti con la badante dell'anziana cui voleva sottrarre denaro e gioielli, la 44enne Cornelia Horvat, originaria della Romania, arrestata ieri pomeriggio a piedi Monte Etneo in flagranza di reato con l'accusa di concorso in tentato furto aggravato. Concorso perché con la donna c'era anche una minorenne, una connazionale di soli 15 anni. Le due, credendo che in casa non vi fosse nessuno o che vi fosse solo l'anziana, una donna di 90 anni invalida, si sono introdotte nella proprietà privata iniziando a frugare nei cassetti e negli armadi del soggiorno alla ricerca di preziosi. Ma i rumori provenienti dalla stanza hanno messo in allarme la badante della vittima che ha subito chiesto l'intervento dei carabinieri denunciando il tentativo di furto in corso. Ormai con le spalle al muro le due ladre hanno tentato una disperata fuga ma sono state sorprese per strada dai militari di piedi Monte Etneo che in pochi minuti hanno raggiunto l'abitazione. Entrambe sono state arrestate. La donna è stata rinchiusa nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Per la quindicenne invece il magistrato del Tribunale dei Minori ha disposto il trasferimento in una comunità giarrese.